Mario Semproni è il nuovo sindaco di Penne, geriatra dell'ospedale San Massimo, 63 anni. E' stato lui a spezzare l'egemonia del centro-sinistra che in città andava avanti da un trentennio. Semproni con la sua lista civica Penne Viva ha ottenuto 2746 preferenze, superando solo di una manciata di voti il candidato del Movimento 5 Stelle Luca Falconetti. Insieme agli altri amici ci batteremo per cercare di risolvere i numerosi problemi che affliggono Penne, in particolare il problema della sanità con un ospedale che viene continuamente ridotto e si è arrivati adesso ad un declassamento, con la vertenza Brioni che affligge veramente la nostra città e con numerosi licenziamenti che potrebbero piombare improvvisamente su tantissime persone, cercando di risolvere il problema della viabilità che affligge purtroppo la nostra città. Cercheremo di risolvere anche il problema del turismo che dovrebbe essere lo sbocco naturale della nostra città, cercando di migliorare la condizione del nostro centro storico. In questi cinque anni non staremo certo con le mani in mano, cercheremo ad ogni modo di risolvere le numerose problematiche della città, cercando di migliorarla. La coalizione del Partito Democratico dunque esce con le ossa rotte, solo terzo l'aspirante sindaco del PD Ennio Napoletano, che ha ottenuto 1933 preferenze e il 24,83% dei consensi. Una sconfitta, quella di Penne, che pesa sul centrosinistra pescarese.